Signor Capitano, queste sono venute per fare l'esame del... Sì, l'analisi dell'urina. Signor Sì, vediamo pure. Che è? Che è? Che è? Posso verlo più grande? Perché? Non mi basta. E che della tiene. E chi sporca per terra, pulisce. Ma che fate? Dietro, fronte! Ma se le ragazze stanno qua? La dovete fare in faccia al Capitano. Lui vi deve controllare. Di fronte, Pezzullo. Non in faccia. In fronte al Capitano. Fate. E non sgrullate. Senti. Abba parla. E la terza sgrullata è considerata sega.